In una lettera scritta ad una sua figlia spirituale in data 25 luglio del 1915, Padre Pio le scrive come occorre comportarsi durante la Santa Messa. Ecco cosa dice il padre. Assistendo alla Santa Messa, così come alle sacre funzioni, devi usare molta gravità nell'alzarti, nell'inginocchiarti, nel metterti a sedere, e compi ogni atto religioso con la più grande devozione. Devi essere anche modesta negli sguardi, non voltare la testa di qua e di là per vedere chi esce, chi entra. Non devi ridere per riverenza al luogo santo, ed anche per riguardo a chi ti sta vicino. Vedi di non proferire parola con chi che sia, a meno che la carità, ovvero una stretta necessità, non lo esiga. Se preghi in comune, pronunzia distintamente le parole della preghiera, fai bene le pause e non affrettarti mai. Insomma, comportati in maniera che tutti gli astanti ne rimangano edificati e siano per mezzo tuo spinti a glorificare e ad amare ancora di più il nostro Signore. Nell'uscire dalla chiesa, a bianche contegno, raccolto e calmo, saluta per primo Gesù sacramentato, domanda e gli perdono per le mancanze commesse alla sua divina presenza. e non partirne da lui se prima non gli hai chiesto e da lui non ne hai ottenuta la paterna benedizione. Che belle queste parole, grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!